Doppio incontro ieri in provincia per il presidente Francesco Spina che ha dovuto affrontare due questioni importanti, gli eventuali esuberi del personale a seguito del riordino delle province e il problema del riscaldamento nelle scuole. La mattinata è iniziata proprio incontrando una delegazione di studenti e dirigenti delle istituzioni scolastiche di competenza provinciale per un confronto sui disagi causati dalle fredde temperature nella scuola seguita l'emergenza neve. Al di là delle ripercussioni delle scelte nazionali, ha detto Spina, la provincia si impegna sin da subito garantendo il riscaldamento per 7 ore al giorno ed adeguando la temperatura d'esercizio così da assicurare il raggiungimento dei limiti previsti per legge. Ogni scuola nel rispetto dell'autonomia e previo accordo con chi gestisce il servizio potrà eventualmente decidere gli orari di accensione e spegnimento degli impianti al fine di adattarli alle rispettive esigenze. Certo, è una nuova fase, molto complessa, nella quale ci troviamo ad operare e ne sono prova le difficoltà che tanti presidenti di province vanno segnalando nell'ambito delle proprie competenze comprese quelle sulla manutenzione e sull'edilizia scolastica. Al momento, ha concluso il presidente Spina, la nostra provincia non subisce un grado di criticità tanto marcato in ogni caso intende affrontare ogni percorso con la più ampia concertazione possibile. Sempre ieri in mattinata, su convocazione del presidente Spina, si è svolto un altro incontro il primo con i rappresentanti sindacali per approfondire le previsioni della legge di stabilità in materia di personale provinciale. Ho voluto incontrare le organizzazioni sindacali, ha dichiarato il presidente della provincia, per rappresentare la volontà di procedere alla stesura del piano di mobilità del personale provinciale e attuare con loro un metodo concertativo. Nei prossimi giorni, ha continuato Spina, sulla base delle ipotesi del trasferimento delle funzioni che la regione Puglia avrà individuato con un disegno di legge, cominceremo ad affrontare i nodi degli eventuali esuberi e le conseguenti mobilità. Il presidente ha quindi manifestato la sua volontà di garantire l'attuale assetto lavorativo e di porre come priorità nel bilancio la copertura degli stipendi dei lavoratori. Sembra che numerose siano allo stato attuale le richieste o le intenzioni di trasferimento, circa una quarantina, presso le amministrazioni comunali come Andrea e Barletta, fermo restando la reale possibilità di avviare queste procedure di trasferimento. Intanto le organizzazioni sindacali, in attesa di conoscere la definizione dell'iter dei trasferimenti delle funzioni dalla regione alle province, hanno espresso la loro condivisione rispetto al metodo concertativo adottato dall'ente.